Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo nella serie di Horror Brawl, il gioco multiplayer con i personaggi di Ice Cream, Mr. Meat, Evil, Nan Oggi torniamo qua perchè finalmente la nuova stagione sta per arrivare, la stagione di Ice Cream Rod il gelataio sarà qui su Horror Brawl tra i personaggi giocabili E quindi non ci saranno neanche più bisogni delle mod per diventare il gelataio, no! Basterà giocare qui su Horror Brawl, in questo video faremo qualche partita ad Horror Brawl giusto per tenerci in allenamento Poi vedremo le novità in arrivo e infine faremo anche qualche partita ad Ice Cream 4 dove noi diventeremo il gelataio Partiamo subito, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Lasciate più like possibili per partire alla grande con questa nuova stagione E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Ma adesso direi di partire, cominciamo subito Allora, per prima cosa, vi ricordo che molto presto con la nuova stagione di Horror Brawl Potremmo sbloccare due nuovi personaggi che saranno in questo slot E poi ci sarà il gelataio caro Potremmo diventare il gelataio da raccongelare tutti quanti i nostri cari amichetti Allora, facciamo qualche breve partita qua Qui c'ho Charlie come personaggio, vabbè, usiamo pure lui Tocchiamo play Andiamo in partita, no, non voglio raddoppiare niente Si gioca, si comincia, vai! Charlie caro, andiamo ad affrontare altri giocatori Andiamo qua a sfidare altre persone E questa sarà una delle ultime partite che faremo nella stagione di Evil Nun Quindi prepariamoci perché nella prossima mappa non saremo più nell'Igol School Ma saremo all'interno della zona dedicata ad Ice Cream Si comincia, perfetto Spero di essere spawnato in un posto dove trovare subito le armi Perché alcune volte mi capita di cominciare e non trovare neanche mezza arma Cioè, ci sono veramente partite che io ho perso perché non avevo armi E gli altri mi hanno colpito molto facilmente Ma veramente molto, molto facilmente Vabbè, qua ci sono delle pietroline Prendiamo tutto, prendiamo tutto C'è una cesta Prendiamo anche qua Vediamo che cosa troviamo qua dentro Comunque abbiamo già una pietra del caos Chissà se riusciamo a diventare già Sister Madeline in questa partita Chissà Preparatevi perché quando uscirà la nuova stagione di Horror Brawl Potremmo diventare Rod Con le quattro pietre del caos Potremmo diventare il gelataio Qui c'è qualcosa, qualche cesto Niente di niente, niente di niente E che roba Datemi le ceste Qualcuno è già lì Aiuto, via, via, via Aiuto Mamma mia, mamma mia Quanto, ma quanto danno fa Ma con una fionda quanto danno mi ha fatto Ma seriamente Aspettate Io quanto gli ho preso Quanto, cioè non gli ho fatto quasi niente Ma dai Ma che roba Usciamo subito qua dalla partita Facciamone un'altra Si parte Ed eccoci qua Eccoci qua Siamo qui all'interno dell'Igol School Vediamo cosa riusciamo a trovare Ok, qua c'è già una ceste Perfetto Direi di armarmi subito Velocemente Vediamo qua cosa troviamo Se quest'arma secondo me Non è neanche tanto potente Perché ogni volta che colpisco Gli altri avversari con quest'arma Gli faccio poco danno Ma veramente poco Poco danno No, no Cosa? Ma subito qua E che roba E che roba Oh Una kill l'abbiamo fatta Abbiamo fatto una kill Perfetto È quella che è venuta da me Io ero per i fatti miei Ero per i fatti miei Mi è venuta da me una Rebecca Qui addosso Vediamo qui dentro Cosa troviamo Ok C'è qualcuno C'è qualcuno qui nei paraggi Non c'è nessuno Meno male Meno male Qui nei bagni Qui hanno già tolto le ceste Hanno già fatto qualcosa Quindi direi di andarmene subito via Ok Vediamo di qua C'è qualcuno Qui Da queste parti Pare che non ci sia nessuno Pare che qua in giro Non ci sia nessuno Ah ma sono proprio il piano superiore Dell'Igol School Ma direi subito di scendere Direi di scendere Dove sono gli altri Sento tipo sparare Sento qua qualcosa Degli spari qui nelle vicinanze Apri quella ceste Perfetto Abbiamo preso tante belle armi Tante tante Vai No no Via Aiuto Ma cosa Ma io vorrei veramente vedere Cioè Seriamente Ma quanto poco danno gli faccio io Oggi veramente sono sfortunato Con le partite No ma vi giuro Quando io gioco per i fatti miei Riesco a fare delle belle partite Quando devo registrare Non so perché Succedono ste cose Succedono ste cose Ma che roba Sarà forse la volta buona Sta terza partita Riuscirò a fare una partita Almeno che non muoio Fra i primi giocatori No Dico così Però è una curiosità Cioè Ma seriamente Io non uso più Charlie Ma che roba Ma che roba Adesso prendiamo qua Vediamo se troviamo qualcosa Sì Mi sa che sta partita andrà male Uh Una ceste Una ceste Perfetto Vediamo cosa troviamo Sì la fionda La fionda Quando ce l'hanno gli altri Tipo diventa un'arma potentissima Quando ce l'ho io La fionda Non faccio male neanche Ad una mosca Allora Vediamo qui Abbiamo uno shotgun Perfetto Vediamo con questo Cosa facciamo C'è qualcuno Qui nei paraggi C'è qualcuno Direi di saltare di qua Perfetto Uh No no Lì c'è qualcuno C'è qualcuno Via 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 Andiamo 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 Ok Una ceste Una ceste Sì mi sa che andrà male Anche sta partita Ma non importa Non importa Cos'è qua Ah Altro fucile Vabbè non mi interessa A me interessano altre cose Tra l'altro Interessano anche Altre belle armi Perfetto Vai Però direi di togliermi Sta fionda Perché Che roba Oh sta fionda Perfetto Andiamo a caccia Di altri giocatori Qui dentro c'è qualcosa Dentro sto armadio Vuoto Armadio vuoto Allora Vediamo qui Se troviamo qualcosa All'improvviso Tutti quanti Sono diventati tipo Dei pro player Potentissimi Andiamo 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 Veloci 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 Andiamo da questa parte C'è anche da dire che sono molto emozionato Per la nuova stagione di Horror Brawl Quindi è per questo motivo che Sto anche un po' giocando così Allora Vediamo qua dentro se c'è qualcosa Dentro armadio vuoto Ok Non ci sta niente Una ceste Una ceste Perfetto Perfetto Andiamo Andiamo Di corsa Di corsa Di corsa Vediamo qui se c'è qualcosa Da queste parti Qui sotto C'è qualche giocatore Spero di no Perché io vorrei ancora un po' Prendere Ok Qui c'è qualcosa Ok Distrutto Distrutto Vediamo se troviamo altri giocatori Che non mi sciottano però Speriamo di no Speriamo di no Me ne vado Ecco qua Aiuto Dov'è Ma dai Ma dalle spalle Ma dalle spalle Ma è in due addirittura In due Ero colpito da Tutte e due le persone No seriamente Oggi non è proprio giornata D'horror brawl Ma direi di fare un'altra cosa Andiamo a vedere le novità Che ci saranno Nella prossima stagione Ma lo vediamo direttamente Con il trailer Il trailer della stagione 2 Di horror brawl Con Rod il gelataio Siamo qua con il trailer L'abbiamo visto la volta scorsa Ma adesso prepariamoci Perché questo trailer Che stiamo per rivedere Comparirà su horror brawl Finalmente abbiamo l'annuncio Della nuova stagione Del gioco multiplayer Con tutti quanti i personaggi Della serie di ice cream Mr. Meat Evil Nun Ci saranno pure Due nuovi giocatori Al trail rod Chi saranno mai Lo scopriremo molto molto presto Quindi tocchiamo play Rivediamo questo trailer E poi proseguiamo Con la nostra avventura Ecco qua Sta per comparire Una crepa All'intorno del muro Horror brawl I giocatori che stanno lì A combattere Ice cream map La stagione del nostro caro gelataio È il nostro caro rondino Che sta per arrivare Preparatevi perché Io su questo gioco Vorrei farci una grande serie Soprattutto adesso Che ci sarà la nuova stagione Di ice cream E ice cream È la serie principale Di questo canale Direi che si potranno fare Tanti bei video Tanti ottimi video Ed eccolo là Hello Chubby boy È arrivato Rod Vai Guardate qua Come congela gli altri Guardatelo qua Il nostro caro rondino Ma che roba Non vedo l'ora Di giocare come Rod il gelataio Su horror brawl E di provare Queste nuove skin Ma adesso Io diri di fare una cosa Passiamo su ice cream 4 Con la mod di outfit Così potremo diventare Già in questo momento Rod il gelataio Ice cream 4 Andiamo subito Qua in partita Tocchiamo gioca Si comincia Si comincia Ma questa volta Diventeremo Rod il gelataio Quindi è come se provassimo Già in anteprima La nuova stagione Di horror brawl Va bene Schippiamo quel filmato Andiamo subito qua Si comincia Devo uscire da questa gabbia E salvare i tuoi amici Si 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 L'abbiamo già fatto 3000 volte Quindi mettiamo qua Noclip God mod Ghost mod Usciamocene subito Via Togliamo immediatamente Noclip Ed eccoci qua Adesso è arrivato il momento Di diventare Rod Andiamo qua su Rod menu Play as Rod Giochiamo come Rod Guardate qua Sono Rod il gelataio In anteprima Prima ancora Della stagione Di horror brawl Lo stiamo vedendo qua Si soltanto la mappa Non sarà quella Con la fabbrica di Rod Ma sarà La mappa Quella dedicata I primi tre capitoli Di ice cream Quindi troveremo Il circo E lo shopping No non lo so Se c'è lo shopping center Comunque Il quartiere Varie parti Il cinema Anche ci sarà il cinema Comunque Zere che abbiamo già visto Nei primi tre capitoli Di ice cream Quindi vuol dire Che la fabbrica di Rod La fabbrica del gelataio Comparirà in altre stagioni ancora Può darsi che ci sarà Non so Una quarta Quinta stagione Ambientata comunque All'interno della fabbrica Non vedo l'ora Di scoprirla E chissà Magari ci sarà anche Un nuovo nemico Nuovo personaggio horror Magari Boris Boris oppure Meti Come personaggi horror giocabile Sarebbe bello Se li aggiungessero Perché comunque Sono personaggi interessanti E guardate qua Rod Come congela Gli altri giocatori In questo modo Su horror bravo Nella nuova stagione Così potremo congelare Gli altri giocatori In questo modo Non vedo l'ora Di provarlo a fare tutto quanto A congelare tutti quanti Charlie Mike Jay No Mike Non lo so se ci sarà Mike ancora non si sa Però tra i nuovi personaggi Potrebbe esserci appunto Mike Liz Oppure Rod Junior Rod Junior modalità skinny Prima di mangiare Il gelato speciale Potrebbe esserci anche Il personaggio di Volnan 1 Perché effettivamente Non sappiamo chi sia Beh Con la prima stagione Abbiamo scoperto Che il personaggio di Volnan 2 È William Ma ci manca ancora Da scoprire il personaggio Di Volnan 1 E chissà Se metteranno altri personaggi ancora E anche perché C'è da dire una cosa Questa non uscirà pure Mr.Mitt2 Ambientato all'interno Della prigione Può darsi che forse Poi faranno una nuova stagione Ambientata alla prigione Di Mr.Mitt2 Con nuovi personaggi Non vedo l'ora Sono veramente Molto emozionato Di provare questa nuova stagione Sono veramente felici Ci sarà da divertirsi Ci sarà da divertirsi Infatti guardate qua Il nostro caro Rodino Come cammina Come ci stiamo incamminando Per andare a combattere Su Horror Brawl Nuova stagione Ad esplorare la nuova mappa E a giocare Contro gli altri Cammina 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 Rodino il gelataio Cammina Veloce 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 C'è da dire che purtroppo Qui in Italia La nuova stagione Di Horror Brawl Uscirà di notte Perché ho fatto dei calcoli Dovremo uscire A luna di notte Del giovedì Mattina Sì La data è prefissata Il 9 Febbraio Però qui in Italia Abbiamo un altro fuso orario Quindi coscerà L'una di notte E io devo vedere come fare Per registrare Molto probabilmente Mi sentirete parlare Molto piano 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 Perché non devo Svegliare i vicini Quindi Avete presente Quando registro i video Alle 3 di notte Ecco una roba del genere Solo che qua Sono veramente costretto A registrare di notte Sarò costretto Perché a quell'ora Uscirà la nuova stagione Ma che roba Poi devo pure andare a lavorare No la mattina dopo Quindi devo pure Mettermi a editare Preparare tutto Se riesco Vorrei far uscire Il video della nuova stagione In premiere Quindi rimanete sintonizzati Perché ci divertiremo Per bere E intanto Rodino il gelataio Che cammina qua La 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 E cena Andiamo via Lungo questo percorso Imparerò pure Sapete che cosa La canzone di Rod Così la canticchio Mentre uscirà la nuova stagione E ci prepareremo A congelare tutti quanti Guardate qui Rodino Come congela tutti Guardate qua Ma che bello Non vedo l'ora Di diventare Rod Il gelataio su Horror Brawl Siamo diventati Sister Madeline Ci è mancato a diventare Rod E quindi che dire Preparatevi Perché ci saranno comunque Tante belle collaborazioni Con la nuova stagione Stiamo già organizzando Già con alcuni youtuber Stiamo organizzando qualcosa Quindi tenetevi sintonizzati Per il momento quindi Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spallicciate Caso vi siete iscritti Al canale con la campanella Attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buon giornata Per serata Buon panino a tutti Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video